Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, il sindaco ha solo un potere, quello di chiudere intere zone. Mi auguro di non essere costretto a chiudere alcune zone della città. Dipende tutto dal comportamento di tutti e di ciascuno e bisogna smetterla, come si fa in alcune ore della sera, a fare delle passeggiate inutili, tutti nella stessa strada, finendo col creare le condizioni per un danno irreparabile a una ripresa lenta ma necessaria. Dobbiamo preservare questo patrimonio di sicurezza, ecco la ragione per la quale espruno che giudono in apprezzamento a quanti hanno contribuito e sono costretto a ricordare a tutti di rispettare le disposizioni del Governo nazionale, del Presidente della Regione e da questo punto di vista voglio chiedere di aiutare le forze dell'ordine che sono diversamente costrette ad applicare sanzioni rigorosissime.